Ah, famose questa pausa, ci vuole. E le cannucce? No, sono finite le cannucce. Qual è il problema? Scegli? Sono finite le cannucce. Sono finite le cannucce? No. Finite? Guardate, non è la busta. No, ce n'è ancora una, guarda. Non penso che c'è ancora una. E' la tecnica di confiune.